Buongiorno da Edo, se abitate da qualche parte in Italia e siete ancora costretti ad usare una connessione ADSL o reti cellulari o satellitari alternative perché la fibra non è ancora arrivata e probabilmente non arriverà mai forse potreste invidiare i sudditi di re Carlo III perché una nuova legge prevede che tutti gli edifici nuovi costruiti in Inghilterra siano dotati di connessioni a banda larga gigabit. Queste modifiche alla normativa sulla costruzione sono state annunciate dal Dipartimento per il Digitale, la Cultura, il Media e lo Sport, DCMS, il 6 gennaio. In sostanza queste norme obbligano i costruttori a fornire l'infrastruttura e le connessioni necessarie per raggiungere la connettività internet gigabit nei nuovi edifici residenziali costruiti in Inghilterra. Il governo ha fissato un tetto massimo di 2000 sterline per i costi di connessione per ogni abitazione e i costruttori devono comunque installare le infrastrutture in grado di supportare le connessioni gigabit e comunque effettuare la connessione più veloce disponibile se non sono in grado di ottenere la connessione gigabit entro questo limite di costo che in ogni caso il governo stima che non sarà superato nel 98% dei casi. Quindi è stato probabilmente messo per evitare le tariffe esagerate nelle aree più remote che necessitano di grossi update delle linee. Comunque in Scozia, Galles e Irlanda del Nord le nuove case potrebbero essere esenti da questa nuova legge perché ogni paese stabilisce norme edilizie indipendenti dalla madre Inghilterra. Il DCMS ha indicato che attualmente oltre il 72% delle case del Regno Unito dispone di connessioni gigabit e punta a coprire l'intero paese entro il 2030. Per raggiungere questo risultato è stata introdotta un'altra legge che rende più facile installare la gigabit negli appartamenti già esistenti. Fino ad oggi gli inquilini degli alloggi multifamiliari dovevano avere il permesso del proprietario per permettere all'operatore di installare un upgrade della linea utile alla connessione e le società telefoniche stimolano che circa il 40% di queste richieste sono ignorate dai proprietari. Ma oggi la legge TILPA permette alle società delle comunicazioni in Inghilterra e Galles di rivolgersi direttamente a un tribunale se i proprietari non rispondono alle richieste di installazione entro 35 giorni. Quindi quella che fu anche chiamata perfida albione e che comunque sta scontando gli effetti negativi della Brexit potrebbe diventare una meta agognata per tutti voi abitanti di Crespellano che con la vostra connessione faticate a vedere Don Matteo su Netflix in alta definizione. In ultimo parliamo di Apple e di una notizia calda riguardante il suo progetto in video sviluppo e da molto tempo vociferato di un visore VR, cioè realtà virtuale e AR, quindi realtà aumentata. Secondo un recente articolo apparso su Bloomberg, l'esperto di Apple Mark Gurman ha affermato che un piccolo numero di sviluppatori software di alto profilo hanno ricevuto hardware prototipi per i test. Gurman sostiene che anche se Apple sta ancora risolvendo molti problemi con questo hardware, il software e i servizi correlati, gli sviluppatori possono iniziare a lavorare sullo sviluppo di app di terze parti. Inoltre, Gurman ha affermato che Apple aveva originariamente programmato di presentare il tanto atteso visore questo mese, ma ora si aspetta che questo avvenga in primavera, prima della Worldwide Developers Conference. Stando alle voci, il piano attuale di Apple prevede di mettere in linea gli sviluppatori con le sue funzionalità software a giugno e infine di lanciare il visore in autunno 2023. Inoltre, Gurman ha anche affermato che Apple sta lavorando ad una versione aggiornata dell'app Apple Store per i suoi negozi al dettaglio, che attiverebbe le funzionalità di realtà aumentata entrando in una posizione supportata. Comunque, non c'è una tempistica potenziale per questo aggiornamento. Voglio aggiungere alcune specifiche interessanti emersi da alcuni report degli ultimi mesi su questo visore. Secondo un articolo di The Information, il visore sarà basato sul sistema operativo XROS e includerà due display OLED 4K abbinati a lenti con campo visivo di 120 gradi, regolazione automatica della distanza interpupillare, sensori di profondità leader e supporto AirPods Pro di seconda generazione. Questo visore avrà un chipset M.2 con processore ISP, cioè Image Signal Processor, e includerà più di una dozzina di telecamere e sensori per il rilevamento del viso, degli occhi, delle mani e delle gambe. Questo è tutto quello che sappiamo finora sui piani di Apple per la prossima generazione di dispositivi VR e AR, quindi è sicuramente un argomento interessante che seguiremo con attenzione nei prossimi mesi. E questo era anche tutto quello che avevo per la puntata di oggi. Vi ricordo che, come sempre, questo mio progetto è disponibile anche in podcast sulle principali piattaforme. Vi auguro un buon martedì e ci risentiamo alla prossima.